Buongiorno, siamo pronti per iniziare un'avventura verso Liewelt, nel sud dell'Olanda Olandese, e oggi viene con noi... No, non si vede. Ciao Diego. A sonno. Happy birthday to Kim, che oggi compie gli anni! E ci ha portato il dolce da mangiare la mattina presto. Donuts! 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 I Mucha Maletas sono pronti per una nuova avventura! A lot of luggage! Ma sono molto forte! Oh, sì! Push, push! Allora, poi che si dice? Tutto bene, tra un po' percibaccheremo questa nave a cargo che si porterà a Amsterdam e il resto è prima colazione. Il resto è prima colazione! Andiamo a fare colazione! In quanta voglia ha nella sua torta di compleanno. Siamo nella zona bar dell'aeroporto. Quante cose buone! Quante cose buone! Ah, non c'è oggi! Quante cose buone! Ecco il nostro Kim che mangia per il suo compleanno il suo dolcetto. Un bel babà. Ma Kim non sa che gli ho portato un altro babà. Il suo regalo di compleanno di quest'anno. Bella! Se riesco a non romperlo prima. Eccolo qui, con un pa' correndo. Che bello! Per Kim con amore! Tanti auguri to Kim! Grazie! Si è rovinata la carta! È solo la carta! È bello, mi piace! Conservala! È il pensiero che conta! È il pensiero che conta, esatto! E qua c'è il pensiero che è amore. Che è il pensiero più bello che c'è. Dopo, il pensiero... Beh, dai aprilo adesso! Ma come aprilo? Non è questo regalo? No, non è quello che c'è al suo interno. Eh, allora... Lo apro! Avevo finito i fiocchi. È un libro! È un libro. Morbido. È un libro! Vai, strappa tutto! Distruggi! Ma che bello! Non ho capito cos'è! È bellissimo! Eh, invece no! Ti piacerebbe! Grazie! È bellissimo! È bellissimo! È bellissimo! È bellissimo! Strafala! Che bello! Il massimo... Che signora! Il massimo la mandiamo indietro! Oh, ok! Fantastico! Spero che ti stia, è una M però mi sa che hanno sbagliato le misure, ti sa giusta, che culo! Visto che il nostro Kimo è un fan di Star Trek, ho pensato quale migliore, eh infatti, ecco Kimo col suo nuovo regalo, ci sta bene, che culo, yeee! Anche di spalle, non è una M questa, questi sono i gattini Star Trek, la maglietta di prima era S, adesso che ho messo questa è una M e Mr A vuol dire che sono cresciuto, e sei cresciuto bene! eccoci, atterrati ad Amsterdam, sono venuti a prenderci e adesso si va verso il furgone! bene! eccoci arrivati all'avenio con il nostro Erik! come inside! welcome! thank you! thank you! thank you! hello! wow! ok ragazzi, direi che ci siamo qui per mangiare! buon appetito Sebo! grazie, grazie! Sebo ha moltissima fame, sta aspettando la mia Caesar salad! wow! perfetto... ah, un po'è che solo si Berluso!? lun Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo pronti per tornare a Milano e siamo all'aeroporto di Amsterdam e io non ho mai visto una fila del genere per i gate. E' allucinante. Non ho la minima idea di quanto ci metteremo. Oddio. Mai mai visto la valigia. Mai, mai, mai. Ed ecco le ultime valigie. E anche questa è fatta. Ciao. Ci vediamo questo venerdì. c'è la mascotte del parcheggio. Come si chiama? Rex. Che bello. Un esemplare bellissimo. Ciao. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta siamo tornati sani e salvi. e carichiamo e andiamocene. Ciao. 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 Ciao.